Tornano la Grisciò e Caprile Illuminata, la Grisciò dal 25 al 28 di maggio. Caprile Illuminata sarà due giorni, quindi un weekend, con la manifestazione che abbraccia la Grisciò, ovvero anche uno dei momenti in cui Villa Caprile ha il massimo verso splendore, grazie al lavoro degli studenti, degli insegnanti, anche recuperando i disastri che il maltempo ha creato anche questa zona nella settimana scorsa e restituendo la meraviglia di questo posto anche dal punto di vista di come può essere vissuta. La Grisciò è già una manifestazione incredibile in cui la scuola si presenta al meglio, ci sono stand gastronomici, presentazioni del lavoro dei ragazzi durante l'anno e soprattutto Caprile Illuminata, ora la terza edizione, che è ritorno dopo la pandemia, è un'occasione per mettere una ciliegina che ricorda l'importanza di questo luogo che ha portato Pesaro, ha contribuito a Pesaro nel 1700 a essere una vera e propria capitale della cultura, come saremo nel 2024, un luogo che ha ospitato storie incredibili, da Rossini a Standala, a Casanova, a Carolina e a Brunswick, quindi sarà l'occasione per rivivere una storia letteraria, ma anche una storia musicale, molti aneddoti verranno raccontati, molta musica verrà eseguita, ho preso la conclusione con il Guillaume Tell e anche la possibilità di raccontare altre storie, la storia a proposito di dove siamo, di Rossini attraverso la gastronomia, quindi il suo ruolo di gourmet e di quasi testimonial anteliteram di prodotti straordinari dell'agroalimentare dell'Ottocento e in generale è un'atrosfera magica che ricordiamo dalle precedenti edizioni che crediamo potrà essere fortemente rilanciata anche nell'ottica della natura, della cultura e della visione prospettica verso Pesaro 2024, di cui la quarta edizione a questo punto di Caprile Illuminata diventerà uno dei fari più splendenti.